Il commercialista piacentino Carlo Bazzoni è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per alcuni episodi di millantato credito. Secondo le accuse, il professionista avrebbe prospettato ad alcuni clienti sanzioni pesantissime da parte dell'Agenzia delle Entrate, nel caso non si fossero appoggiati a lui, in grado di intervenire sui controlli e ammorbidirli. E proprio a quest'ultimo aspetto si lega la condanna. Cadute dunque le accuse più pesanti di estorsione con la difesa che ha comunque preannunciato appello. Con ogni probabilità presenteremo l'impugnazione e l'appello perché noi abbiamo rassegnato delle conclusioni pienamente assolutorie per tutti e cinque i capi di imputazione, non per due soltanto. Per due è stata accorta, per altri tre no, nel senso che è stata ridimensionata e direi anche drasticamente ridimensionata soprattutto la gravità dell'imputazione, ma è comunque una condanna penale e noi riteniamo che le risultanze istruttorie avrebbero giustificato un esito diverso. La sentenza è stata pronunciata dal Presidente del Collegio Giudicante Italo Ghitti con alattere i giudici Elena Stoppini e Maurizio Boselli. Per Bazzoni anche cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e la restituzione di 22 mila euro nei confronti delle parti civili. Il pubblico ministero Antonio Colonna aveva chiesto otto anni di carcere. Le parti civili, ossia gli imprenditori che avevano denunciato il comportamento di Bazzoni, avevano domandato un risarcimento vicino al milione di euro. I legali del commercialista, l'avvocato Luigi Stortoni del Foro di Bologna e il collega Paolo Fiore di Piacenza, avevano invece chiesto la piena soluzione.